Con un finanziamento di 800.000 euro verrà avviata ad Alghero la pulizia dei depositi di Posidonia per il ripristino delle condizioni ambientali ottimali, eliminando definitivamente i disagi causati sia ai cittadini residenti sia ai turisti, principalmente nelle località di San Giovanni e Punta Negra. Sarà l'azienda di Porto Torres Verde Vita ad occuparsi dei lavori. L'intervento rientra nel pacchetto di operazioni programmate dall'amministrazione comunale col coinvolgimento attivo dei massimi esperti in materia, la collaborazione delle associazioni imprenditoriali e la garanzia di risorse economiche adeguate, sottolinea il sindaco Mario Bruno che questa mattina, insieme all'assessore all'ambiente del comune di Alghero Raniero Selva, ha effettuato un nuovo sopraluogo a San Giovanni dove la dita ha avviato i lavori di accantieramento. Un lavoro che guarda al futuro, restituisce decoro e piena fruibilità di un'ampia porzione di spiaggia urbana, prosegue Mario Bruno che sottolinea l'impegno dell'assessorato, ringraziando la collaborazione degli uffici competenti, le associazioni turistiche, la Confcommercio e Federalberghi con cui si sta mettendo a punto un piano operativo specifico, per l'individuazione di una serie di azioni sinergiche per la pulizia dei litorali di Alghero e di gestione della Posidonia spiaggiata nell'arco dell'anno, a beneficio di tutti i fruitori delle spiagge e dell'intero comparto economico e turistico del territorio. Nella stagione balneare 2019 rimarrà operativo soltanto il sito di stoccaggio temporaneo in località Kugutu, presso un terreno pubblico a Maria Pia.